Ciao a tutti, benvenuti su Gossip e Newsita. Oggi vi portiamo le ultime notizie direttamente dal Grande Fratello, con un emozionante sviluppo nella storia di Beatrice Luzzi. Nel nostro video di oggi, parleremo del ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello dopo il funerale del padre, l'architetto Paolo Luzzi. La sua decisione di tornare nel reality show nonostante il grave lutto ha commosso tutti. Prima di rientrare nella casa, Beatrice legge una toccante lettera scritta al suo amato padre durante il funerale, esprimendo gratitudine per tutti i doni ricevuti e la scelta consapevole di andarsene in un momento che potrebbe sembrare difficile. L'emozione è palpabile sia nello studio che nella casa, e anche il conduttore, Alfonso Signorini, non è immune dall'effetto commovente della situazione. Beatrice spiega la difficile decisione, ma vuole onorare suo padre e rappresentare i valori con cui è cresciuta. La notizia ha suscitato reazioni forti anche tra i concorrenti, alcuni dei quali sono in forte contrasto con la scelta di Beatrice. Ma ora, cari spettatori di Gossip News Ita, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, lasciare un bel mi piace se apprezzate il video, e commentare qui sotto con le vostre opinioni e reazioni.